Buon pochino Perla.it Perla.it Percivano tutti i drogati Oh Drogati Drogati Tutti i drogati papi 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 ben 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 ding ding manzinga vola la regnante e la regnante e la scenza arriva con i tuoi amici di manzinga primare robot non saremo già a precedenza ma saremo già a precedenza e che vizzo per da bis vizzo per da bis vizzo per da bis opera come era la pubblicità che facevano anche alle fans rinsangeles è il mio cattone dell'arrenimento di fittonato tutto qua non 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 Questa cosa è l'attenziale. Questa è l'attenziale. Quella che piace a te. Guarda ne chiede. Sì, San Giuliano. Cos'è quello che? Quello è lo sfingo che non ti piace a te che arriva la macchina da giro. Ma quello lì. C'è strada? E qua c'è l'Ale. Qua sotto c'è l'Ale. Quelle sono le cose a TV. Queste case qua? Eh sì. Fuori caso lì. Eh sì, il campo da calcio. Dov'è, dov'è? Il campo da calcio. Il campo da calcio. E' quella lì. E' quella la palazzina lì. La direita così. Eh sì. Sì eh. Eh sì. Ah sì. 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 Grazie. Grazie. Vi auguriamo un piacere pure il soggiorno e ti aspecchiamo un presto soggiorno. Bellissima Milano. Bellissimo soggiorno. Ladies and gentlemen, welcome to Milo. Please keep your mobile switched off and remain seated with your simple fast food until the doors are open. Please pay attention when opening the home compartment and don't forget any of your personal schedules.